Pochi giorni, poche ore, poi domenica ci sarà la trasferta sul campo di Firenze, dopo i quattro punti nella prima settimana di lavoro sulla panchina del Rio Journal Meccanica, una settimana intera per poter mettere a punto un po' di cose, come è stata appunto questa settimana. Fino a questo momento molto produttiva, abbiamo caricato tanto e continueremo sia oggi, domani chiaramente il giorno pregara cercheremo un pochino di sistemare le questioni tecniche e tattiche in relazione alla partita di Firenze, quindi il lavoro sarà meno intenso di tutti questi giorni, però sotto il punto di vista del carico sono molto contento perché siamo riusciti a lavorare con continuità e anche perché da domenica comunque il tempo è poco per lavorare, si gioca ogni tre giorni, si ritorna a giocare ogni tre giorni, di conseguenza dovremo solo affinare determinate situazioni, quindi abbastanza contento però c'è tanto da migliorare. Da dove sei ripartito dopo gli ottimi due set con Casal Maggiore, poi c'è stata la loro rimonta, comunque due partite, questa e quella con Monza, da dove la squadra è sempre uscita con punti, l'importante è appunto muovere costantemente la classifica magari con tre punti. Beh, la classifica ci mette all'ottavo posto e giochiamo con una diretta concorrente per l'accesso alle prime otto appunto per la griglia di Coppa Italia, quindi in questo momento noi dobbiamo pensare semplicemente che è una vera e propria finale con Firenze, poi penseremo al resto e si riparte dall'intensità vista nei primi due set, cercando di dare comunque un po' più di volume, quindi un po' più di durata all'intensità perché i primi due set la squadra ha giocato veramente ordinata, con attenzione, con grinta, con determinazione, poi sicuramente anche per merito di Casal Maggiore comunque si è incalati, dobbiamo aumentare quello che c'è stato di buono e soprattutto non curarci dell'avversario che è di fronte, perché solo così noi possiamo risalire la china perché ancora in questo momento sì è vero che abbiamo fatto quattro punti sui sei disponibili nelle ultime due gare, ma la classifica è sempre deficitaria, quindi dobbiamo continuare a macinare e dobbiamo pensare a ogni partita come una finale perché obiettivamente è così per noi perché fino al termine della regular season di andata abbiamo Firenze, Conegliano e Bolzano dove bisogna cercare di fare il massimo. Il lavoro sul campo, fuori dal campo hai capito con una settimana in più di lavoro, anche tu probabilmente un po' di più su una squadra che avevi potuto vedere quasi solo all'opera in campo. Sì, non è che una settimana sia due mesi di lavoro, però di sicuro sono venute fuori molte più particolarità perché bisogna curare un pochino più gli aspetti specifici, nel dettaglio l'intesa palleggiatore attaccanti, le linee di ricezione con un assetto rispetto all'altro, il discorso comunque della fase break, ci sono tantissimi piccoli particolari, li sto studiando insieme allo staff che mi sta aiutando tantissimo, però bisogna continuare, anche oggi si riparte perché in questo momento qua noi non possiamo permetterci pause e soprattutto io non mi posso permettere di aspettare del tempo che oggettivamente non abbiamo. Quindi noi dobbiamo racimolare il più possibile informazioni, ottenere feedback da parte della squadra sia dal punto di vista tecnico che individuale e cercare di sistemare le situazioni più importanti, sono sempre quelle semplici come dicevo dalle prime gare, però sono quelle più importanti, continuare a mantenere un servizio buono e efficace come è stato in queste due gare, migliorare la fase muro e soprattutto sistemare la fase cambio palla in termini di cambio palla positivo perché questa è una squadra con dei buoni ricevitori e dobbiamo far sì che possiamo approfittare meglio delle situazioni positive di cambio palla.